Premomatici delle auto squarciati questa notte in pieno centro di Battipaglia. L'atto vandalico è stato compiuto nottetempo dai gnoti, che hanno preso di mira alcune vetture parcheggiate nei pressi di Piazza della Repubblica. A segnalare l'accaduto sui social, i proprietari delle auto colpite, che hanno provveduto a presentare denuncia contro i gnoti. Lo fanno quasi ogni notte, scrive un utente. Io avrò cambiato forse 12 volte le gomme in un anno. Grazie.